Arancine palerbetane Questa è la preparazione delle arancine Mi spieghi come hai fatto il riso Acqua, dado, zafferano, alloro e un po' di sale E fa l'ultimo burro Un po' di burro Il riso, pangrattato, lega, acqua e farina Rago di vetello con pistilli e carote Per le arancine a carne E a burro con prosciutto e mozzarella Ora vediamo la preparazione Il riso, buono, ancora è caldo Mi ha appena spiegato che sta passando il riso lì Perché lo deve fare raffreddare per poterlo lavorare Se bagna la mano, se prende una palla del riso È sicuramente È sicuramente Non si fa la lega Ma dopo la facciamo Pallina del riso Sì Vedi con quale maestria Si deve fare il buco per mettere il condimento E si mette il ragù Abbondante E se ricorda 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 Siccacando Paasando colocire la rè Paldi 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 E se ricorda Il riso Se ricorda Non 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 Colocire Grazie a tutti. Si accarezzano nella lega, acqua e farina. Da notare la differenza tra perfettamente rotonde sono a carne, leggermente ovali al burro. Ultima fase, frittura, poche alla volta perché noi le facciamo in casa. Si aspetta che siano dorate e poi si mangiano. Bella fritta e dorata. Apriamo e assaggiamo. Arancina e viene da arancia, frutto siciliano. Filante, buona. Specialità siciliana. Altra variante. Carne. E allora? Chi è questo? Papà. E allora? E allora? E allora? E allora? Grazie a tutti.